Jingle bells, jingle bells, jingle all the way Oh what fun it is to ride in one night's a faze Buongiorno amici e benvenuti in questo nuovo video Oggi riprendiamo dove abbiamo lasciato martedì scorso a Little Nightmares Eravamo tipo in preda agli occhi che ci guardavano e ci bruciavano e ci dissolvevano Dovevamo stare dietro a un carrello delle pulizie se non mi ricordo male Dunque sigla, iniziamo! Riprendiamo proprio da dove eravamo rimasti Allora stavamo andando qui che c'è però l'occhio Vai, 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 veloce, veloce, veloce No, cazzo! Ok, ci siamo salvati Al momento Adesso arriva il carrello E noi dobbiamo cercare di stare indietro Tac Ce l'ho fatta, ce l'ho fatta ragazzi Al primo colpo tra l'altro oggi Vai, 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 corri, 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 corri Ce l'abbiamo fatta Ce l'abbiamo fatta Che ansia Oddio 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 Adesso avevo detto che cadevo giù Iniziamo bene la puntata di oggi Ma Gesù che ansia Cioè devo andare No, devo rifare l'occhio Non si crede Carellino Guardate i bimbi Come me Però ho provato tipo a pari Ho provato tipo a parlare con loro Ma non ci riesco Dai, no, 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 no Non morire, non morire Che palle Che palle Pensavo che seguisse il carrello Basta Ma dai però E se stai troppo avanti è così Se stai troppo indietro è così Se stai troppo indietro è così Qui Fermo Buono Qui Lì Corri, 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 corri Ce l'ho fatta Ce l'ho fatta Oh Gesù Sono morta schiacciata Che dolore No Via Corri Corri Salta Salta già su La parte Oggi Sono morto Sono chiuso dentro Perché vibra qualcosa Ho paura Non voglio andare di qua Ho paura Ecco La prigione Sembra che il canarino Si è fuggito Dalla sua tappia Vuol dire che sono uscita da qua Non sono più in questo posto Puglio Aiuto C'è un occhio lì Ma non funziona Ma sono ancora in questo posto Io me ne volevo andare C'è un saccoio No Un' Un' Nu' Forza Però non sa Se le bandi Pesso Vetti vedi che anche lui va sopra si ma che posti pericolosi però io sono un bambino mamma raga che povero non so se voglio andare questa la devo mettere là sotto perché sennò non arrivo alla menina ok possiamo non arrivo a schiacciare i bambini crispa che genio del male che sono questo lavoro e ora vai su questo è un po' e non ci metti qua non ci metti qua ma questo non è un po' Prendila, perché non la prende più? No, no. C'è la chiave, mi servirà qualcosa, ma con le mani io non posso. Oddio. Non l'avevo visto. Chiudo un pochino. Forse ora mi serve qui la chiave, infatti. Chiudo un pochino. E niente se c'è stella. Eh, però non posso saltare con questa in mano. Quindi come faccio a salire qua? No. Però posso lanciarla, forse. Sì. Come si faceva a non lanciarle cose? Oh. Ce l'ho fatta, madonna santa. Oh. Andiamo. Sì. 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 Ma non di lì. Sì. Ma mai nella vita ce la farò. Sì. 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 Ma scusa. Magari io volevo andare dall'altra parte. Oddio. C'è un pochino. Che cosa c'è? Ancora il mio stomaco. Ecco la persona. C'è un pochino. No, non è chiesto. No, non. Au! Oddio, troppa fame! Poverina! Mi spesso un sacco! Che schifo, cosa si stava dicendo? Pensate se ero più finta madera? Ecco, lo sapevo! Bella ragazze, anche questo video vi è piaciuto, mi raccomando lasciate un like, commentate, condividete, seguitevi su social, noi ci vediamo al prossimo video! Ciao!